Presidente, gli ingegneri ci sono e vogliono testimoniare la loro solidarietà a queste popolazioni colpite dal sisma? Sicuramente, noi siamo qui proprio per testimoniare la volontà degli ingegneri di continuare a dare un contributo, ma soprattutto esprimere la solidarietà a questi paesi così duramente colpiti, sperando che chi deve decidere metta subito in campo tutte le azioni che consentono di prevenire il rischio sismico in questo paese. È la battaglia degli ingegneri, ma credo che sia la battaglia di tutti gli italiani. Grazie.